In giustizia e noi dobbiamo lottare perché si affermi il diritto a ognuno il suo. Questo fa di noi qualcosa di, purtroppo, di controcorrente, ma fa di noi, se vogliamo, delle persone che cercano di fare un mondo di loro. E questo non è qualcosa che succede nella politica, nelle altre sfere. Certamente lì bisogna essere molto vigili, ma questo è qualcosa che succede nella quotidianità. Quando io frego il fisco, quando io non rispetto una regola, quando io non rispetto quella...